un bambino respira un bambino stavo solo pensando al futuro no cioè sì perché ti sto mandando in paranoia no non in paranoia di brutto pensavi saresti stata tu a dire sì d'accordo sono pronta ok questo non è vero non è vero a fare persone pressioni sì a cercare ma quelle pressioni guarda che non sono mica una stessa stiamo facendo un discorso non sta succedendo nient'altro soltanto che stiamo facendo un discorso tu stai facendo un discorso noi stiamo facendo un discorso un discorso che hai iniziato tu un discorso che io sì sto cercando di iniziare tutto qui questo è qua un discorso che hai deciso di iniziare adesso sì all'ikea non era proprio ok vuoi un po d'acqua qualcosa da mangiare se gli andate in iperventilazione non esagerare se troppo non è troppo possiamo accantonare la cosa ci mettiamo un bel coperchio sopra e la mettiamo via poi quando ti manderà meno in paranoia non mi manda in paranoia ok va bene non mi manda in paranoia sono solo sorpresa sono sorpresa sono scioccata cazzo non è vero ma sì che è vero sono totalmente in paranoia paranoia sì va bene perché tu mai una volta ma come vuoi perché perché non ti viene da perché non ti viene a parlarne con me questa cosa te ne sto parlando adesso vorrei che tu mi lasciassi entrare con la tua cazzo di testa stiamo parlando adesso stiamo parlando stiamo facendo un discorso questo non è un discorso allora va bene proprio per niente va bene io non so che cosa sia ma di una cazzo di cosa sono sicura è che questa non è una conversazione va bene ok ok possiamo almeno uscire dalla fila ci stanno tutti guardate sì scusa non volevo possiamo accantonare una cosa ho bisogno di notte non c'è nessuna fretta nessuno ci correva è un discorso come un altro faccio due passi non solo dieci minuti ci vediamo la macchia ok